La tragica fine di Giulia ha sconvolto l'intera comunità. La giovane è stata vittima dell'aggressione dell'ex fidanzato Filippo Turetta la sera dell'11 novembre 2023. Negli ultimi giorni, abbiamo avuto modo di conoscere più da vicino la famiglia di Giulia Cecchettin, in particolare sua sorella Elena e suo padre Gino. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire i dettagli sugli altri membri della famiglia, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Tuttavia, non possiamo dimenticare la presenza significativa di altri membri della famiglia, tra cui lo zio Andrea, la nonna Carla e il fratello minore Davide. Ognuno di loro sta elaborando il lutto a modo proprio. Elena, ad esempio, ha trasformato la sua sofferenza in una ragione di vita e di lotta. I suoi appelli appassionati ai giornali e in televisione hanno profondamente colpito l'opinione pubblica, lasciando un'impronta indelebile nella nostra memoria. Nel frattempo, il padre Gino ha condiviso i suoi pensieri attraverso i social media. Oltre a Gino ed Elena Cecchettin, rispettivamente padre e sorella di Giulia, sono emersi anche lo zio Andrea, la nonna Carla e il fratello minore Davide. Lo zio Andrea ha spesso parlato davanti ai giornalisti, è il fratello di Gino e gestisce un vivaio. Ognuno di loro contribuisce a elaborare il dolore in modi unici, ma la forza delle parole di Elena rimarrà per sempre impressa nella nostra memoria. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per esprimere la tua opinione e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video, a presto con un nuovo contenuto.